Comincia a prendere corpo la giallo-blu figline 2016-2017, il sodalizio del Valdarno Fiorentino è ripartito dalla coppia vincente della passata stagione, conclusa con una salvezza anticipata nonostante una partenza ad handicap per la rosa assemblata in gran fretta e poi modificata in corso d'opera. Già al lavoro l'allenatore Alessio Coccollini e il direttore sportivo Fabio Malvisi che stanno seguendo varie piste dopo l'ingaggio di rilievo di Andrea Ciolli, l'attaccante del 91, reduce da nove reti in campionato con il Porta Romana e appetito da diverse società anche di serie D. Invece vestirà la casacca figlinese. Di sicuro un rinforzo di assoluto rilievo per il reparto offensivo di una squadra che potrà contare su un nucleo di confermati, in gran parte giovani, di qualità già emersi nella stagione passata. Nell'elenco dei giallo-blu rimasti il portiere Scarpelli, quindi Scoscini, Mazzanti, Mannini, Gori, Valcareggi, Arcangioli e il 97 Rossini. Altri protagonisti dello scorso torneo di eccellenza sono in stand-by anche perché nel mirino di diverse società. A proposito di giovani il figline sta avvagliando diverse ipotesi per i calciatori del 98 così da completare al meglio il reparto dei sotto quota. E con il settore giovanile in ogni caso si annuncia una collaborazione sempre più stretta, tanto che i rumors degli ultimi giorni darebbero per imminente un ruolo di direttore generale della giallo-blu figline per Marco Bignone, già responsabile tecnico del Valdarno Football Club, il vivaio che unisce le realtà giovanili di figline e incisa.